Oh no, le hai prese tu le chiavi del motoscafo. Ma che? Le chiavi del motoscafo. Ma ma che sacco di coglione? Le chiavi del motoscafo. Le chiavi del motoscafo. Che è Camilla? Le chiavi di coglione? Le chiavi del motoscafo? Ah! Le chiavi del motoscafo, no. Sì, le chiavi di questo cazzo. Camilla, Camilla, vattene. Dai, le hai prese tu. Ah! Ma qua fresco, qua fresco, il motoscafo. No, pensavo le hai prese tu. Mi serve il motoscafo. C'è l'anda via? Ah! Che sacco di coglione! Ma c'è l'anda via? Ma che è? Qualcunque è l'anda via? Il motoscafo. Ma tu c'è il motoscafo, eh? Ma c'è l'anda via? Ah! Sapete c'è l'anna? Ah! Che nanna va! Vuoi sapete c'è l'anna? Ah! Sì, 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 ma partita ne bebe. Vuoi sapete c'è l'anna? E la mia fa culo! Oh! Adesso sì che parto con il giusto. Vedete già quanto mi ha fatto sudare. E siamo solo all'inizio. Ma soprattutto guardate che bel posto. Nuovo, nuovo. Palestra della salute. Top. Affanculo. Non fai coglione! Casta al vetro! Casta al vetro! Che che ti casca! No, no. Venite qui un po' di foresti. Ah, vabbè. Dove va la bella signora? Eh? Dove va? Dopo le alici. Le alici? Dove vogliono prendere le uova. C'è da fare? Tu c'è il pranzo? No. Ah! Di in piazza si sentono solo loro. Beh, si sente dal campo del mercato. Io veramente, eh? Eh? Io veramente, cioè. Che casino. Adesso, direi qualcosa a tu sull'unico serio di qui. Sì, io non so se ne fai fare. Non era fatta a salire qui, eh? Ma che buddino! Eh? È buddino! Abbiamo preso un ascensore e l'abbiamo caricato sopra. Ma tu hai preso le cazze? Ecco, adesso... Eeeh! Cazzone! Particci là! Sì, sì, sì. Oggi è sì, sì, sì. Ma il balletto com'è? Sì, sì, sì. Com'è? Com'è il balletto? Sì, sì, è venerdì. Sì, sì, sì. Com'è, com'è, com'è il balletto? Sì, fai non scende, non scende. Sì, fai il direttore della banca. Scappa il direttore della banca. Scappa il direttore della banca. Che gli dice? Dico, una volta... E' capace che... Ha detto, ma fate lavora un po'. Ah, sì? Se facciate, mi ha detto, ogni tanto fate lavora un po'. E' proprio perché gli arvengono i conti, no? Eh, tutti i conti sballati. Sì, sì, sì. E' venerdì. Mamma mia, che balletto. E' venerdì. Guarda, guarda che mobilità. Sì, 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 sì. Sì, è perfetto. Oh, le scene, le scene, le scene. Il buddino, il buddino. Il buddino. Adesso fate un sorriso alternato mentre guardate che si alterna, capito? O no? Fa un sorriso alternativo. Ma che cazzo? Fallo tu, fagli vedere tu come si fa. Vai, fallo. Meglio, meglio. Meglio, meglio. Meglio, meglio. Meglio, 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 no. Meglio, meglio. Meglio. Ma che sacco di coglioni. Oh, il direttore. Bulletto del quartiere, eh. Il bulletto. Il quartierino. Massimo Boldi. Antonello Venditti. Filiberto. Meno da tutti. Quanto è bella la piazza, ecco. Guarda, guarda. Guardate. E il buddino. E il buddino sulla... Pensaci. Che penso me. Che penso me. Controlli sempre il cincillato perché... Che penso me tutto controllato. Fa, fa, fa. Le supposte le messe... Ah, ah, ne spoileriamo, ne spoileriamo. Perché ieri c'è stato il dottor Battilocchi. È vero? Così, Battilocchi. Che gli ha controllato tutto. 13.30 su YouTube. Dove c'ha... Su YouTube. 13.30. 13.30 su YouTube. Non mancate. Intanto iscrivetevi. Eh? Non mancare. Non mancare. Anche un venerdì speciale. Faccio vedere. C'è un regalino per chi sarà. Di chi sarà il compleanno? Chi lo sa? Chi lo sa? Adesso lo scoprirete. Oggi è il compleanno. Di Marchino. Eccolo. Fa degli auguri. Comperanno di papà. Toppa, metti questo. Oh, guarda quanto sei bellino così. Auguri. Grazie. Guarda come scarta. Come scarta il regalo. Un sportivo come te. Tutta la tuta. E via. E via. Figuri non sa. Eh? C'è anche il sotto. Com'è? Perfetto. Adesso il freschino la puoi tenere. Appena posso. Ma il sudoku come si è messo? Eh? Ho preso lezioni. Si, il sudoku? Com'è? Com'è? Bene adesso. 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 Vai, ma il sudoku. Una bella foto. Ma l'hai sguastato tutto. Oh. L'hai sguastato tutto. Rimettela a posto. Si, certo. Dai. Ti devo fare la foto qua. Rimettela a posto. Meglio, meglio. Meglio. Opa. Piove? Bastante. Sudoku? Papà. Ti bagna. Tutto bagnato. Madonna. Eh, che ti hai detto? Come hai rimesso il sudoku? Si. Come sei messo il sudoku? Malissimo. Dice bene. Eh, le lezioni ne ho saltato le ultime. Fuori per un po' di giorni. Sono venuto a salutare la ziggianna. Eccola. Ziggia. Ma quanto comandi la sua, eh? Quanto sei bella. Mannaggia. Quanto è bella la ziggianna. Che stai fa, o no? Che stai fa? Sto pulito. Che stai fa? Fermate, Dio! Ma che stai fa? Oh. No. Eh. 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 Stucchiare. Eh. 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 Cosa fa? Che la fa? Eh. Adesso metto a posto l'acqua. Che la fa? Fermate con le mani, Dio scappa. Ora sta fermo con le mani. Morfati tu queste mie. Eh. Con le mani, non sta fermo. Ora un po', per te, non è cascato. Non è cascato niente. Ora un po'. Ah. 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 Eh. Adesso non ti incassi? Eh. Non mi incassi. Non mi incassi. Eh. Guarda come ridere, eh. 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 Ride, ride. Eh. Rido, rido. Ah. Che ride? Rido sto cazzo. No. No. Come no? No. Sì. Vì, ma ti è contento. Eh beh. Oh, vieni. Tacchi. Ciao. eh per forza c'ho da fare mi raccomando è il papa, ti è lo d'occhio eh si quello che prevo ti è lo d'occhio eh si, ti è lo d'occhio ti è lo d'occhio eh ti è andato anche da solo ciao no ci vediamo ciao 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 un pennellino eh ah va via che sa tutto moglio che cazzo hai fatto questa è l'acqua che la portava su 10 casse parte siamo tutti manovari alla ziggiana tutto lei e a sto giro mi è andata delusso parte siamo tutti manovari alla ziggiana tutto lei mi sa che a sto giro mi è andata delusso giusto un tempo ecco che rimanevo a secco adesso lo famo diventa pieno quindi sta pieno potete tenere conto è stata l'autogrill era pieno di gente sono andato giù al bagno mi scappò una pisciata clamorosa entro entro il bagno delle donne per sbaglio apre una porta a mezza su chiusa entro c'era una che stava a serie sai che mi ha detto che non è vero un cazzo raga possibile mi sbaglio il bagno delle donne con gli occhi sono appena arrivato dopo un lungo viaggio e la mia camera è pieno di maiale cioè mamma mia grazie 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 grazie